Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, a Pesaro così come sul resto della riviera fino a Gabice, tornano le candele. Quali particolarità vedremo quest'estate? Queste state vedremo sulla spiaggia tante lumelle, tante bellissime lumelle che accenderemo grazie anche ai vari volontari delle varie associazioni. Avremo più di 20.000 candele, 20.000 fiammelle che rischiareranno tutta la serata. Questi 7 km di costa pesarese, raggiungendo fino a Gabice, Fiorenzuola e Vallugola, sono 20 km di luci, compreso il castello di Gradara, che sarà illuminato con 200 fiammelle. La particolarità di quest'anno è che abbiamo modificato i kit per i bagnini, li abbiamo un po' restaurati, rinverditi con del materiale nuovo. Abbiamo un po' modificato, sperando che piaccia a tutti. Oltretutto quest'anno la particolarità è che abbiamo tanti giovani, tanti ragazzi che ci daranno una mano come volontari all'allestimento delle candele, grazie anche all'associazione di Bocca Nera, la Gulliver. Da Pesaro le candele arriveranno fino a Gabice? Certamente, insieme a Gradara e a Pesaro, quest'anno già dal 2010 che partecipiamo a questa iniziativa, anche la nostra spiaggia, quindi tutto il litorale di Gabice Mare fino alla Vallugola, per un totale di circa un chilometro e mezzo, avrà appunto queste candele su tutta la battigia. In particolare avremo nella spiaggia libera sotto monte questo beach nick in bianco, quindi una cena a base di pesce, dove tutti potranno partecipare, avrà un costo di 20-25 euro, con acqua e vino tutto compreso e sarà lietata la serata anche da una band all'ora di cena e più ci sarà della musica, un DJ set dalle 22 in poi. Vi aspettiamo a tutti, numerosi e speriamo nel tempo buono.